narra la leggenda che fu scritto dagli spiriti delle tenebre necronomicum ex mortis libro dei morti il libro serviva a indicare i passaggi verso i mondi demoniaci dell'altilà fu scritto tanto tempo fa quando i mari divennero rossi di sangue e fu con quel sangue che venne scritto il libro nell'anno 1300 il libro scomparve